Ciao ragazzi, se anche voi siete giunti su questo canale per ordinare un'intro e ottenere un'intro gratis questo è un breve tutorial per spiegarvi come fare allora vi basterà andare su Telegram Web in questo caso utilizzo Telegram Web perché sono da PC dovrete andare a cercare il nostro bot ordini, intro, bot e troverete il nostro bot dopodiché premerete il tasto avvia e il bot partirà, vi darà tutte le opzioni che potrete utilizzare allora, per ordinare un intro, se avete più di 300 iscritti dovrete premere qui vi apparirà un form con tutte le informazioni necessarie per l'ordine della intro queste sono le 4 informazioni principali che ci servono la canzone non è obbligatoria e dovrete leggere tutto ovviamente perché c'è scritto tutto qua e dopo l'ordine noi vi contatteremo privatamente per approfondire l'ordine quindi comunicare le date di consegna e tutto e la conferma dell'ordine se non avete più di 300 iscritti basterà andare a premere su intro per youtuber con 300 o meno iscritti dopo aver fatto l'ordine ovviamente vi contatteremo in privato e vi diremo come pagare i 2 euro necessari per la intro che alla fine non sono neanche tanti, sono pochissimi 2 euro dopo che avrete effettuato l'ordine e l'ordine sarà stato confermato i tempi di attesa sono all'incirca di 1-2 settimane in base al tempo che ho dal 15 giugno appena finisce la scuola in una settimana le intro saranno pronte di sicuro spero che questo breve tutorial vi sia stato utile per capire come si ordinano le intro effettivamente è molto facile iscrivetevi al canale, lasciate un bel like rimanete sempre attivi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti